Nel pomeriggio di mercoledì 29 gennaio un vasto incendio è divampato avvolgendo i boschi e le serpaglie a Val della Torre in località Brione. Numerose squadre dei vigili del fuoco stanno operando per riuscire a circoscrivere le fiamme e a tenerle lontane dalle case. Sul posto l'autoradio con funzionario di servizio, autopompa serbatoio, squadra 22 centrale, autobotte volontari di Borgoni di Susa, autobotte volontari di Almese, APS volontari di Avigliana, elicottero dei vigili del fuoco Drago 66, più unità fuoristrada con modulo boschivo volontari di Mati, un furgone UCL con unità di comando locale per coordinare le operazioni. Il forte vento rende difficile le attività del spegnimento che si presume andando avanti ancora ore. Grazie per la visione!